Bentornata Alfa Romeo Giulia versione 2023 con finalmente i fari full led matrix bellissimi, gli cambiano tantissimo il frontale tra l'altro di questa colorazione è secondo me semplicemente magnifica, ma voi guardatela bene, secondo me è anche l'allestimento giusto quello veloce con i circa 19, le pinze rosse, quattro pistoncini davanti e ho una considerazione da fare la Giulia ha una linea che non invecchia, senza linee tese, senza spigoli, senza angoli, senza esagerazioni veramente evergreen, bellissima anche la tre quarti posteriore, dietro ovviamente cambia molto meno i gruppi ottici sì, leggermente la colorazione, ma il design è quello, abbiamo il versione Q4, quindi quattro ruote motrici un bel dieselone, bello il doppio scarico vero, e un po' poco sfruttabile perché è una bocca un po' piccola ma non piccolissimo il baule con 40-20-40, possibilità di abbattere i sedili, le finiture qua sopra vabbè, ma ragazzi, ma tutte le macchine fanno un po' schifo qua sopra nella cappelliera e la abbattere i sedili si può avere anche da remoto, ma direi che la Giulia l'abbiamo vista tanto andiamo a guidarla perché è quello il bello di questa macchina non piccolissima la chiave, ma ovviamente l'ingresso è keyless, non riconosce quando ci allontaniamo quando ci avviciniamo, bisogna usare i pulsantini o tirare la maniglia bello il pannello porta, Arman Kardon, qua c'è anche la gommina per evitare sgigottamenti molto belli i sedili, tre le memorie, tanto contenitivi e la possibilità bellissima tra l'altro il logo al faromeo qua sul poggiateste di allungare e accorciare la seduta easy entry, beh, qua il volante si commenta da solo non starò a dirvi niente di più di quello che non vi ho detto perché dentro non cambia niente rispetto alle versioni precedenti ecco, una cosa che non mi piace, che potevano forse implementare la visualizzazione della mappa di navigazione nel cruscotto centrale che ancora non c'è, bellissime le palette in alluminio magari un po' vicine al De Violucci, ma male male Pietro, che che tu ne dica, questo specchietto con sta cornice che è montato sulla Tipo a me non dà particolarmente fastidio, però so che tu non sopporti ma io dico, hai speso un sacco di soldi per mettere questi nuovi bellissimi fari LED Matrix, ma una 100 euro in più per cambiare sto specchio ma perché poi è una cosa che vedi sempre, tutti i giorni quante volte guardi lo specchietto, a me cade l'occhio su sta cornice inguardabile, vabbè, pazienza, nulla di trascendentale per il resto è la Alfa che conosciamo con qua tutta la parte relativa al cambio infotainment anche qua un po' piccolino, però veramente ben integrato nel design generale della vettura e anche questo era stato svecchiato qualche anno fa devo dire che oggi funziona bene tra l'altro giorno l'ho lasciata sotto il sole cocente per conto che il tuo moto segnava a 50 gradi quindi ti lascio immaginare hai iniziato a laggare come una bestia però diciamo che era una situazione estrema però in effetti la non eccessiva velocità l'avevo notata anche io come stai qua dietro? qui dietro ci sta abbastanza bene c'è un ditino e qualcosa di spazio per le gambe un paio di dita anche per la testa per essere una berlina direi niente male presa USB anche qua dietro le bocchette qua il bracciolo, carico passante l'abbiamo visto prima Isofix molto bene maniglie per tutti gli occupanti bella anche la plafoniera ma sto rumore di dieselone senti che spettacolo bellissimo togli di questo rio stampato sulla faccia solo perché senti il rumore di dieselone che bello il mio dieselone 2x2 210 cavalli che va come un 280 ma vorremmo con questo telaio 100 cavalli in più voglio la quadrifoglio quando è che va la quadrifoglio? pronto? Alfa Romeo quando è che arriva la quadrifoglio? la Giulia quadrifoglio è una di quelle macchine che qualsiasi appassionato d'auto dovrebbe avere a garage sì io però vorrei anche provare la Stelvio la Giulia l'avevo provicchiata quando l'avevate provata voi qualche tempo fa la Stelvio mi manca ma tutti mi hanno detto essere il mezzo definitivo quattro ruote motrici che controlli che si staccano vabbè però metti la retromarcia un attimo guarda il francobollo il retro francobollo è così hai fatto una copertura? hai messo la telecamera doc per non far vedere il francobollo? esattamente per non farlo vedere no comunque sì la retrocamera non bellissimo non c'è quella anteriore non c'è la 360 e va bene questo glielo tra virgolette permettiamo anche se no ormai che avevano messo il display digitale i fari full led una telecamera un po' di più di 480x360 era meglio tra l'altro nel display digitale non va la navigazione sì cioè non puoi averla alla mappa ti fanno capire che è italiana però è bella da guidare esatto noi siamo in coda e stiamo parlando di quanto è bella da guidare siamo in coda e è bella da guidare perché alla fine è anche comoda molto comoda tu ci hai fatto mille chilometri un weekend sì ho consumato veramente poco perché ho fatto circa 14 con un litro di media facendo passi di montagna autostrada cioè a 130 l'autostrada va ad ossigeno praticamente quindi rotaie circa 19 barra 35 benissimo quasi non si sono sentite ovviamente è una spalla 35 quindi è così tra l'altro di solito la gomma run flat che ha su questa questa vettura ogni tanto la rende tanto rigida nella realtà dei fatti è veramente molto buona non abbiamo le sospensioni a controllo elettronico è vero meno male così non mi arrabbio perché in N in normal non puoi indurirla indurirla solo in dynamic di solito alla fine abbiamo una modalità di guida che va a gestire il solo motore cambia un po' di cose però all'eteratore arriviamo dopo è notato che in N quando cambi in manuale ha un po' più effetto trascinamento? sì e ti dirò di più ho provato un equivalente quindi un 210 cavalli Q4 primissima serie perché è del 2016 di un amico e posso dirti che l'hanno leggermente e dico leggermente desupercarizzata nel senso che la sua per esempio quando fai manovra per esempio dentro del cortile a casa mia saltella come sulle ruote davanti come le vetture con il volante precisissimo il cambio è una lama anche in modalità normal diciamo in modalità natural come la chiamano loro ti dico va benissimo si guida benissimo il 99,9% degli utenti credo non se ne accorga nemmeno però avendole guidate una dopo l'altra subito ho notato qualche leggera differenza chiaro che con l'evoluzione hanno detto hanno limato qualche spigolo che forse era troppo estremo esatto forse a qualcuno dava fastidio il fatto che saltellasse però era una caratteristica più che un problema il fatto è che non è ripeto la macchina funziona divinamente il fatto è che provandole vicine non lo so ha tolto qualcosina però appunto che non toglie assolutamente niente il piacere di guida ecco il dieselone o comunque i termici senza ibrido in estate io lo start and stop lo stacco qui funziona bene tra l'altro è veloce sia a spegnersi che a ripartire si però oggi ci sono tipo 40 gradi fuori quando si spegne e spegne la recondizionata dopo 30 secondi e infatti e questo è un altro vantaggio delle elettriche perché lì la recondizionata va sempre si detto che comunque il mio dieselone che fa mille chilometri con un pieno lo preferisco però magari non in città però anche se qua c'è da dire che la coppia in basso è quasi subito non è la coppia dell'elettrico ma comunque c'è tantissima quanta coppia c'è 470 Nm che da tecnica che ve lo racconta cioè si guida bene anche in città si guida bene anche perché non è vomitina molte vetture soprattutto poi faremo magari dei paragoni con le Tedesche quando freni magari c'è quell'effetto rebound quel rimbalzino anche il cambio taratura cambio motore che le fa diventare un po' vomitina e qua zero effetto vomitino il rumore è diesel old school è diesel però sai che ci sono gli ultimi diesel che sono super filtrati super insolidati si è un filino più ruvido rispetto ad alcuni altri è vero ecco hanno cambiato anche il rumore della freccia facendolo diventare un po' più fastidioso senti questo qua è quello della tonale quello della 2016 era un po' più carino hanno preso lo stesso software esatto hanno preso l'hanno trasportato lì però questo non è lo Uconnect quello diciamo della 500 elettrica rimane quello della Giulia magari non c'era il processore potente a sufficienza per far girare un infotainment magari un pochino più moderno come dicevi tu è un po' lentino è un po' lentino però quanto è integrato bene ma tu lo sai un aneddoto quando l'hanno lanciata conoscevo una persona in magneti marelli mi ha detto che da un punto di vista ingegneristico hanno speso un sacco ma un sacco ma mi hanno detto Andrea un sacco di soldi per far sì che il display scomparisse l'hanno un po' desupercarizzata anche il raggio distrattata leggermente migliorato però rimane poco raggio distrattata ah ok rimanete che devi fare 66 manovre per entrare in un parcheggio stretto sì devi solo devi solo in realtà capire come farle al meglio perché poi alla fine le fai però devi farne una in più tendenzialmente anche tre notate cattive ma sai che ma poi bello il rumore bello è il tutum tutum ma fammi sentire è premium no c'è anche il singolo vetro c'è il singolo vetro sì sì è premium è proprio ben sonorizzata pensa a te se non fosse sonorizzata sto motore arrivati l'illuminazione lounge no i matrix ah sono arrivati è una cosa alla volta nel 2025 arriverà in collezione lounge no i matrix led funzionano abbastanza bene nel senso che non sono velocissimi a salire e scendere ogni tanto però potenti potenti esatto vediamo se questa volta ha voglia di attivare gli assistenti della guida come dico io no allora il centering funziona bene ma si attiva un po' quando vuole lui cioè ci devono essere delle condizioni sine qua non allineamento strada di pianeta ce l'ha fatta traffic jam traffic jam ce la sta facendo dice di toccare il volante lo tengo perché sennò tanto capacitivo quindi molto bene posso toccarlo la curva la fa no ma funziona bene tenere le mani sul volante l'unica cosa è proprio che l'attivazione è un po' randomica non randomica che non riesci a capire neanche quale sia la chiave non riesci a capire quale sia la chiave perché per esempio l'altro giorno ero in un'autostrada nuova la pedemontana veneta che non era mappata sul suo tom tom di serie e lei non riconosceva che eravamo in autostrada però io ero a 130 km dell'ora e non mi settava l'highway assist come lo chiama per il resto assistente dell'angolo cieco c'è e vibra anche il volante tra l'altro infatti un paio di volte mi sono sentito vibrare il volante e ho detto ma cos'è sta roba che vibra il volante è l'assistente dell'angolo cieco anche con scontro l'attivo funziona bene si è italiano quindi non ti tiene un chilometro davanti poi abbiamo dato i consumi in città per così poco che è in città tra i 12-14 non pochissimo ma comunque essendo un 4 ruote motrici si no va benissimo 14 km con un litro però la macchina comunque pesa 1600 kg 4 ruote motrici se entra a a Wergen tra l'altro l'assistente dell'angolo cieco è anche attivo quindi se vede che c'è una vettura nell'angolo cieco ti dà una leggera contro la coppia per non andargli addosso ovviamente tutto settabile e selezionabile i giunti direi molto bene lo smorzamento molto molto bene a 110 sembra andare a 50 si perché siamo a 1400 giri e fa tipo 400 km con un litro no come ne fa a 110 ah si 21 che è comunque tanta roba affondiamo l'acceleratore 470 Nm di coppia 130 adesso direi molto bene e fa ancora comunque 18-19 che è tanta roba è davvero tanta roba il dieselone come qui fa la differenza io di solito amo i SUV perché sono hanno la posizione di guida alta qui nonostante ci sia una guida da berlina comunque mille chilometri in un weekend mi hanno fatto viaggiare davvero davvero molto bene ma si alla fine perché è confortevole non è vomitosa ha un bel assetto una buona insonorizzazione è una macchina da lungo viaggio magari con quelle quattro curve ogni tanto che ti svegliano che ti fanno divertire io ti dico siamo andati a San Martino di Castrozza non so se tu conosci la strada che da Fiera di Premiero va a San Martino e chi non la conosce questa strada se la conosci chi la conosce sa che è una prova speciale ed è bellissima cioè è bella larga godere godere puro anche con il dieselone comunque 130 km all'ora ancora 1800 giri quindi è lottare più lunga da riposo per cui lo consuma così poco vado a metterla in modalità dynamic cambia nettamente l'intelligenza del cambio e anche la velocità del cambio perché quando vai a mettere marce ti dà di quelle volte che non trascinavo non si possono purtroppo staccare i controlli neanche su questa versione 4.8 motrici e come vi dicevo non abbiamo le sospensioni a controllo elettronico la metto anche in modalità manuale per usare questi paddock che sono una cosa meravigliosa andiamo ad inserire e vedete che portandola dentro col freno e poi andando a caricare il posteriore diventa appunto una mezza supercar pur avendo il dieselone ma stessa cosa vorresti avere tanti più cavalli come dicevamo all'inizio 100 cavalli in più 100 cavalli in più non farebbero assolutamente male però a livello di sensazione forse va più della Stelvio che ha 100 cavalli in più che ha 70-80 cavalli in più e anche a livello di allungo che ha un dieselone a 3.500 giri è finito però sotto spinge spinge davvero davvero tanto grande appoggio grande grande appoggio adesso vado a fare il cambio di corsia le do tanto fastidio e non si muove minimamente minimamente è impressionante quanto sia attaccato a terra dinamicamente alla Giulia non si può dire assolutamente niente freni freni decidi frenare così ho frenato il pedale del freno è by wire talato meglio rispetto a quello che avevo criticato della Stelvio e comunque ogni tanto un po' gommosino però qui ci fai l'abitudine la Stelvio non era bellissimo qui molto bene allora prezzi 59 550 con uno sconto online 53,6 e 95 non comparemo mai questi sconti online che le case costruttici vogliono fare concessionari vogliono iniziare tutti a fare alla Tesla stanno cambiando le cose i costellanti soprattutto stanno cambiando le cose 64 la nostra accessoriata sono tanti quasi 70 online 61,6 che sono già diversi già diverso prezzi allineati ha una BMW 320 320 xDrive base quindi sta leggermente sotto le tedesche ma non così tanto sotto pro dinamica di guida al top non lo dico più vorrebbe almeno 100 cavalli in più l'abbiamo scritto 6 o 7 volte 72 volte consumi buoni bel diselone chilometriste e poi il comfort macina nonostante sia bassa e massata da berlina contro bagagliaio un po' poco sfruttabile avete visto prima qualche taratura ADAS un po' poco precisa attivazione ostica del centering ma nel complesso comunque c'è tutto e tutto funziona comunque abbastanza bene il prezzo allineato alle tedesche è un contro io ho fatto qua un punto di domande soprattutto perché stelle le tedesche sempre come benchmark è vero che sono costruite bene è vero tutto però ti posso dire che a livello di io sono pro macchine che funzionano bene non ho nulla che invidiare adesso non ho nulla che invidiare io sono pro auto elettrica non sono una solutista dell'elettrica il diselone per certi contesti va benissimo ma parliamo del design di questa Giulia quanto è bello magari quando è nata forse non sembrava avanti sembrava bella ma non avanti adesso tu dicevi provate la prima serie 2016 siamo nel 2023 quindi sono passati sette anni ed è ancora bella con due ritocchini estetici anche per i farli se non si poteva vedere ma per il resto è rimasta tale e quale le ultime tedesche ma anche altri brand che iniziano con gli spigoli a mettere troppo a mettere tanto per differenziarsi diventa troppo un po' come alla Mazda con la filosofia dello stondato del bello del pulito della ricerca del minimalismo alla fine funziona perché non è minimalista è bella fate sapere cosa pensate qua sotto nei commenti ciao